Una banca vicina ai bisogni del territorio, dei cittadini e delle imprese. Taglio del nastro questa mattina in Viale Vittorio Locchio a Figline della Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, che ha adesso una sua sede anche in Valdarno Fiorentino. Fondata nel 1864, è attualmente presente in 22 comuni, 5 province con 35 filiali e un patrimonio composto da 3.200 soci. La Banca di Cambiano continua la sua capillare di fusione in Toscana. Esattamente, sono 131 anni che siamo in attività. Siamo la banca di credito cooperativo più antica operante in Italia, la più grossa della Toscana e tra le prime quattro a livello nazionale. Ma ciò che conta non è tanto la dimensione, conta piuttosto la consapevolezza di aver raggiunto integrazioni rilevanti in tutte le zone in cui noi siamo presenti. A noi la nostra storia è quella, cioè di una banca del territorio, una banca locale che ha sempre trovato e cercato di vivere in perfetta simbiosi del territorio dove opera. Quindi lo abbiamo fatto dove siamo nati, lo vogliamo fare anche nel Valdarno. Questa è una terra ricca di tradizioni, piena di piccole e medie imprese, di famiglie e quindi è l'humus naturale per una banca come la nostra. Noi vogliamo fare quello che abbiamo sempre fatto, il nostro modo di fare banca locale e quindi che si lega a questi mondi. Lo sportello è aperto tutti i giorni, sabato compreso, per venire incontro alle esigenze di chi lavora. Si tratta di una banca, un istituto di credito e sceglie di investire proprio su questo territorio e sceglie Figline come sede per la sua filiale. Per noi è sicuramente un'opportunità e anche il segnale che c'è una speranza nella direzione di una ripartenza che per noi è assolutamente ossigeno.